Sono dei lavoratori 41 uniti, siamo qui per eliminare alcuni punti della riforma Fornero, specialmente la riforma Fornero perché è una riforma che non ci piace assolutamente. Noi chiediamo praticamente di andare in pensione dopo 41 anni di contributi e far entrare i giovani nel mondo del lavoro, che oggi non hanno futuro. Fatti 40, 41 anni di contributi dovrebbero uscire e dovrebbero entrare i giovani. L'altra cosa è l'aspettativa di vita, quella che oggi il sindacato sta cercando di discuterne finalmente dopo che anche noi da molto tempo ne stiamo parlando. È una vergogna che praticamente l'aspettativa di vita in Italia sia l'unico paese dove esiste ancora, anche dopo 43 anni di contributi di lavoro, perché noi oggi per andare in pensione dobbiamo fare quasi 43 anni di contributi per avere un'anzianità. Ed è incredibile, come si fa a 43 anni a stare in un ambiente di lavoro, in una fabbrica? Non è possibile tutto questo. Chiedo soltanto di separare la previdenza con l'assistenza, perché non è possibile fare il Bancomat dell'Italia per l'Inps. Non è possibile che adesso dobbiamo aspettare noi giovani di andare a lavorare perché c'è una classe di lavoratori che ancora deve aspettare di maturare la pensione. Credo che questo non è vergognoso in un paese come l'Italia, che ha sempre lavorato ed è fondato sulla dignità e sul lavoro. Credo anche che dopo 41 anni di contributi sia anche ora ed è giusto che si vada in pensione. Quello che vorrei anche aggiungere è che io sono giovane, mi vedete giovane, ma in realtà sono un precoce. Da quando avevo 15 anni che lavoro ho versato quasi 20 anni di contributi. Si propongono di andare a 70 anni e tutto questo per diminuire il debito pubblico, no, per finanziare le imprese che licenziano gli operai e che portano le aziende all'estero. Si fa la decontribuzione che è una forma di lavoro nero e poi quando le persone si trovano nell'età fra i 30 e i 55 anni, quando hanno i primi figli, quando fanno il mutuo della casa, quando cominciano a fare carriera e allora in quel caso se vengono licenziati queste persone non hanno nessun diritto e non avranno né pensione e neanche salario e si andrà nella povertà assoluta come 12 milioni di italiani. Quindi chiediamo al governo, ai sindacati, a tutti di cambiare questa riforma fornero, di cancellarla completamente perché non ne possiamo più. Noi vogliamo l'opportunità di andare in pensione con 35 anni di contributi, 57 d'età, poi chi vorrà andare ci andrà, chi non vorrà continuerà a lavorare, però dateci questa opportunità con il 30% in meno oltretutto. Quindi non chiediamo la luna, i soldi li abbiamo pagati, ci sono e dovete ridarceli perché se non ce li date con la pensione allora ce li date proprio in toto.